Ciao, sono Germano, vengo da San Felice Circeo, ma abito a Roma da 12 anni. Io sono un bartender e la mia professione, la mia strada è iniziata quasi per caso, per gioco, perché una mia amica mi ha portato un giorno a fare una lezione di prova e già lì io mi sono sentito molto a mio agio, ho capito che quello era il mio ambiente e ho fatto della mia passione un lavoro, perché poi si è fatto tutto sempre più serio, ho iniziato a lavorare in diversi locali fino a quando ne ho aperto uno mio al Pigneto. La mia prima volta al Glamourise è stata molti anni fa, ma non ero né un cliente né un bartender che lavorava lì, vi lascio scoprire in che bestie ho fatto il mio primo ingresso al Glamourise. Il mio idolo nel mondo del bartending è Flavia Angiolillo, ma perché ho avuto la possibilità di conoscerlo e mi ha fatto riscoprire una grande passione per questo lavoro e anche se in realtà io mi ispiro a diverse persone che non fanno necessariamente parte di questo ambiente. Ci sono due personaggi ai quali io mi ispiro moltissimo e che mi hanno accompagnato in tutti questi anni che sono RuPaul e Tina Turner. È molto divertente poter unire il tuo lavoro alle tue passioni, quindi portare un personaggio che però non è interpretarlo, è essere se stessi con un po' di spezie in più. Il cocktail che preparo oggi è un Sidecar, un cocktail con una ricetta abbastanza antica, lo presento con un Twiston Classic, è una presentazione abbastanza divertente che a me fa ridere e c'è con un piccolo bicchiere, uno scettino a fianco che riprende appunto la moto Sidecar. Ciao, grazie a tutti e ci vediamo al Glamourize!